C'è posta per te, visto il clamoroso successo novità in arrivo per lo show del sabato sera. C'è posta per te si allunga, visto il grande successo di ascolti che il people show di Canale 5 sta riscuotendo in queste settimane, Mediaset ha chiesto a Maria De Filippi di prolungare la trasmissione di altre due puntate. Come fa sapere il portale Davide Maggio It, infatti, se inizialmente la fine della messa in onda dell'ultima puntata era prevista per il 17 marzo, per la felicità degli affezionatissimi fan, che ogni sabato sera si raccolgono davanti alla tv per ascoltare le storie, che vedono protagonista la gente comune, il programma continuerà a far commuovere e sorridere i telespettatori con altre due nuove puntate il 24 e 31 marzo. La decisione di Mediaset di allungare c'è posta per te rimanda di fatto il debutto dei due speciali, condotti sempre dalla De Filippi, che avrebbero visto come protagonisti Francesco Totti e Laura Pausini, ve ne avevamo parlato qui. Il motivo di questa variazione sarebbe da ricondurre a motivi economici, il People Show, infatti, costerebbe meno degli speciali e forte del grande affetto del pubblico farà da traghettatore per il serale della 17esima edizione di Amici di Maria De Filippi, in partenza il prossimo 7 aprile. Che ne pensate? Contenti di questo prolungamento di c'è posta per te?